di guerra, è un brano che si chiama War, che ho scritto anni fa, ed è un brano a cui sono molto affezionato, molto legato, perché in realtà è un brano più che antimilitarista, è un brano contro i cambiamenti climatici, l'ho scritto nel 2010, ed è un brano che appunto parla di come le guerre siano fatte in realtà per le risorse naturali, per ottenere dei beni che possono essere i bacini petroliferi, piuttosto che appunto le risorse come l'acqua, il petrolio, intere foreste, insomma praticamente la sete e la vita dell'uomo porta a distruggere l'ambiente di circostanze e la guerra è solo uno dei metodi che utilizza l'uomo e utilizza l'avido potente che giustamente le multinazionali che hanno in mente appunto di fare profitto e a discapito dell'ambiente, quindi una nuova coscienza ecologica è a quanto pare evidentemente venuta fuori grazie a questi giovani millennial, questi ragazzi di oggi e noi persone più adulte dobbiamo comunque apprezzare questi giovani che vogliono tentare di cambiare il mondo anche perché una canzone potrebbe non servire a nulla ma riflettere su questi temi invece è molto importante, quindi uova! Grazie! 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 Grazie!